ciao a tutti sono luca domeniconi oggi parte ufficialmente questa questo nuovo format che è un po diverso dai video che facciamo di solito che hanno bisogno di una preparazione una ricerca del contenuto e così via questo format è molto semplice molto fresco molto reale impresa diretta sostanzialmente voi mi fate una domanda e io cerco di esplorare quella quella domanda con una risposta rapida veloce reale senza interruzioni proprio così come viene il tema di oggi è questo solitamente nell'ambito del marketing digitale vengono fatte le pubblicità in una certa maniera che vi spiego vorrei però dare una visione alternativa di questa modalità pubblicitaria perché secondo me è molto interessante e va anche diciamo a risolvere dei problemi che possono nascere nella visione iniziale ok allora solitamente come vengono fatte le ad advertising la pubblicità online solitamente mettiamo faccio una pubblicità su facebook ok quindi nella vostra la vostra timeline la vostra bacheca appare una pubblicità voi ci cliccate sopra e andate a finire nella migliore delle ipotesi poi vi spiegherò perché su una landing page di vendita quindi una pagina creata per vendere un prodotto o anche un servizio dico nella migliore delle ipotesi perché in realtà quello che succede è che moltissime pubblicità vanno a finire sulle home page dei siti quindi sulla pagina principale dei siti qual è il problema? apro una piccola parentesi che chiudo subito se mandate del traffico su una home page ci sono 100.000 link diversi e molto probabilmente la persona che è lì per comprare un determinato prodotto si perde quindi quando fate una pubblicità siate sempre molto specifici di un certo prodotto e mandate le persone su una pagina specifica che è appunto una landing page di quel prodotto e questo è quello che accade di solito quindi la persona arriva sulla bellissima pagina del vostro prodotto e cosa succede? non compra, non compra perché le persone quando vanno, quando vedono per la prima volta un prodotto non comprano, ok? in generale si dice che gli e-commerce convertono al 2% quindi il 2% delle persone compra in realtà, in realtà non è mai così, in realtà di quelle 100 persone che sono date sulla vostra pagina vi va bene se una converte, ok? in media, poi ci sono casi eccezionali, ci sono casi molto sfortunati però in media se una persona vi compra va bene in questo momento, cioè in realtà così facendo vi perdete 99 persone che non hanno comprato quindi sempre nel caso solito, che cosa si fa? si fanno delle pubblicità di remarketing, cioè si tracciano le persone che vanno su questa landing page la prima volta e poi si continua nel tempo a fargli vedere pubblicità, si continua a inseguire questa persona o queste persone con delle pubblicità che si chiamano appunto pubblicità di remarketing ovviamente le persone non comprano la prima volta perché non sono pronti, non hanno in quel momento i soldi non hanno avuto le informazioni necessarie anche per fare tutto il loro percorso d'acquisto quindi di per sé è anche un po' stupido cercare di vendere qualcosa a qualcuno che vede il vostro prodotto la prima volta e quindi avete fatto pubblicità in prima istanza e poi pubblicità di remarketing per provare a vendere questo prodotto qui il problema qual è? che ogni volta che fate una pubblicità di remarketing voi spendete dei soldi quindi atterro per la prima volta sulla landing page, non compro vedo dopo due giorni una pubblicità di remarketing, non compro vedo dopo tre giorni una pubblicità di remarketing, non compro e così via mettete altre per 10 volte, 15 volte vedo una pubblicità di remarketing poi magari alla fine compro quelle pubblicità di remarketing mi sono costate dei soldi quindi di per sé secondo me questo processo è sbagliato perché le persone quando vedono per la prima volta il vostro prodotto non sono pronte a comprare qual è la visione alternativa che voglio dare oggi? è questa le persone la prima volta che vedono il vostro prodotto non devono avere una call to action, quindi una chiamata all'azione di acquisto ok? perché non sono pronte ma devono avere una chiamata all'azione per cercare in qualunque modo di prendere il loro contatto vi spiego meglio esempio invece di avere un tasto acquista avere un tasto in cui un form con un tasto in cui c'è scritto metti l'email qui per ricevere più informazioni nel nostro prodotto ok? oppure clicca qui e vado a finire su un chatbot di facebook cioè dovete in qualunque modo cercare di prendere il contatto diretto di quella persona perché dovete fare questo? perché una volta che poi avete preso il contatto potete a queste persone inviargli in maniera gratuita ad esempio delle mail quindi potete cominciare una sequenza di nurturing detta all'italiana in cui spiegate perché dovrebbe questo potenziale cliente comprare il vostro prodotto quali sono i benefici che problema risolve quali sono le feature quali sono le domande frequenti magari in fondo a questa sequenza che altro non è che un autoresponder fare una piccola offerta iniziale ok? quindi potete dare delle informazioni molto importanti per accelerare la customer journey del vostro potenziale cliente quindi portarlo il più vicino possibile all'acquisto grazie a queste mail e le mail sono gratuite ovviamente al netto del tool che usate per inviarle quindi rispetto al remarketing che utilizzavate prima in questo momento state usando delle mail che sono gratuite quindi portate le persone sempre più vicine all'acquisto con una soluzione gratuita ok? in molti a questo punto diranno ok sì Luca ma le persone non vogliono mettere l'email la prima volta che vedono la landing page questo di per sé può essere anche vero ma è molto più facile che qualcuno di incuriosito lasci il contatto ok? in questo momento e poi acquisti piuttosto che compri quindi se siete bravi a incuriosire le persone nella landing page a dare gli stimoli giusti per farvi lasciare il contatto oppure per entrare dentro un chat ma qui i casi potrebbero essere mille per prendere un contatto e siete bravi le persone ve lo lasciano in contatto e da lì potete iniziare una fase di nurturing per stimolarle ad acquistare cosa succede? che praticamente di 100 persone che entrano diciamo che vanno su questa landing page di generazione contatti quindi di lead generation mettiamo non so il 10% vi lasciano il contatto quindi 10 persone su 100 lasciano l'email nel form che c'è in questa landing page queste 10 persone riceveranno delle mail da una per rispondere e poi una parte di queste compreranno con la prima offerta che gli fate mettiamo il 4% compreranno tramite questa autoresponde tramite questa offerta e altre ovviamente non compreranno però però dato che avete il loro contatto il fatto che non abbiano comprato alla prima offerta non significa che poi non compreranno alla seconda alla terza e così via perché perché una volta che avete il contatto potete comunque continuare a stimolare queste persone con delle offerte quindi magari un mese dopo faccio una nuova offerta con dei contenuti diversi con una proposta modificata con un prodotto in più ok quindi se non ho comprato la prima volta magari posso comprare la seconda o la terza e così via quindi rispetto alla prima strategia in cui io dico mando a schiantare le persone su una landing page in questo caso ho il contatto delle persone e posso passatemi il termine bombardarle con dei messaggi per farle comprare questo significa che di quelle di quelle 100 persone che sono entrate 10 mi hanno lasciato il contatto 4 comprano adesso magari 5 comprano fra un mese fra due mesi per cui alla fine ho venduto molto ma molto di più rispetto alla strategia iniziale e inoltre non sono venduto di più ma ho anche speso di meno perché ho utilizzato delle mail piuttosto che aver usato il remarketing quindi secondo me questo switch mentale è molto importante che lo facciate ma non solo è importante che lo facciate con della pubblicità a pagamento provate a pensarlo anche in tutte quelle situazioni in cui postate sui social dei contenuti in maniera gratuita quindi fate un post mettete un'immagine su instagram e così via se avete un link è secondo me è stupido mandarlo mandare questo link a meno che non sia esattamente un caso di un'offerta ok a meno che non sia proprio il caso di un'offerta speciale è stupido mandarle mandare queste persone su una landing page di vendita diretta perché invece non provate a prendere il contatto di queste persone perché una volta che avete il contatto poi potete fare quello che volete cioè potete mandare messaggi a queste persone quando volete è un asset straordinario come ripeto sempre ad ogni corso che fate l'asset migliore che avete sono i contatti diretti dei vostri potenziali clienti quindi anche per delle situazioni organiche dove non state spendendo soldi sostanzialmente pensate a sfruttare delle landing page di lead generation quindi di generazione di contatti dove c'è un form con dei campi da riempire nome, email numero di telefono ad esempio più un invia e chiedi più informazioni piuttosto che compra subito perché anche in quei casi lì funziona di più che schiantare le persone su compra ora ok pensate che questo vale per qualunque cosa ok questa è l'idea di base come al solito dico nei video se avete delle domande comunque scrivetemi e speriamo che questa prima questo primo format questo primo test di questo format piaccia così da farne delle altre più avanti e se ci sono dei temi che vi piacerebbe che venissero trattati ovviamente scrivetemi e io vedrò di fare dei nuovi audio come questo in cui cerco di rispondere alle domande ciao ciao ciao